Il Molfetta calcio c'è e dopo un avvio di stagione al Talenante lancia finalmente un segnale ben preciso alle rivali del campionato di eccellenza. Seconda vittoria stagionale per gli uomini di Pino Giusto che superano in rimonta 3-2 l'Ostico, Messagna in trasferta. Gara ricca di emozioni e ribaltoni, gara che vede un buon approccio dei biancorossi alla ricerca di un successo in grado di dare una spallata alla propria avventura stagionale. Ospiti pericolosi in avvio sullo sviluppo di un calcio d'angolo, ma di Lauro è attento e respinge. Il Molfetta protesta dei padroni di casa poco dopo la mezz'ora di Fino, va giù in aria ma il direttore di gara opta per il giallo per simulazione ai danni del giocatore Brindisino. Il Messagna in ogni caso non si disunisce e trova il gol del vantaggio prima del riposo con un bel diagonale di Campioto. L'undici di ribezzi dunque avanti di una rete all'intervallo. E' tutta un'altra storia, la seconda frazione di gioco però che si apre con due novità per il Molfetta. Giusto getta nella mischia Rosselle Vitale e soprattutto con l'acuto del pareggio lo realizza uno scatenato Bozzi con un poderoso colpo di testa. Lo stesso attaccante dei Biancorossi si concede il bis personale a metà frazione e porta in vantaggio la sua squadra. Altre emozioni nel finale. Il Messagna pareggia i conti con una stoccata di galasso tra le proteste degli ospiti che chiedono l'annullamento del gol per fuori gioco. Poco male in ogni caso per il Molfetta che piazza il colpo da tre punti prima dello scadere neanche a dirlo. Ancora con un super Bozzi abile a beffare di Lauro in diagonale. Finisce così 3-2. Gli uomini di Pino Giusto salgono a quota 6 punti in classifica e si sistemano a ridosso della zona playoff. Grazie. Grazie.